Presentato Lovere il progetto percorsi archeologici alla scoperta dell'identità culturale dei laghi bergamaschi, iniziativa sviluppata dai comuni di Lovere, Predore e Casazza e con partner la comunità montana dei laghi bergamaschi e l'Accademia Tadini di Lovere. Il progetto, che ha beneficiato di un importante contributo di 550 mila euro erogato dalla Fondazione Cariplo, pari al 50% dell'investimento, ha permesso di dare impulso ai lavori di recupero, restauro, musealizzazione e messe in rete dei siti archeologici di epoca romana del territorio dei laghi bergamaschi, la necropoli di Lovere, il villaggio di Cavellas a Casazza e l'impianto termale della Villa Patrizia di Predore. Giovanni Guizzetti, sindaco di Lovere, ente capofila, ha dato importanti notizie sul futuro dei beni archeologici della cittadina. Nasce quindi una realtà archeologica diffusa, ce la puoi introdurre? Sì, è una nuova realtà che va a coprire il territorio della comunità montana dei laghi bergamaschi con tre comuni, Predore, Casazza e Lovere, che sono sede di insediamenti archeologici di epoca romana, per cui ci si è messi in rete, si è partecipato a un concorso, un bando Cariplo tre anni fa, che finanziava la creazione di nuovi percorsi culturali all'interno del territorio della Lombardia. Il nostro progetto globale di 1.100.000 euro è stato premiato con un cofinanziamento del 50%, quindi 550.000 euro di derivazione Cariplo e altrettanta cifre messe a disposizione dai tre comuni, più la comunità montana dei laghi bergamaschi e l'Accademia di Belle Arti cittadini, che sono gli altri due partner che completano questa nuova rete. Attraverso questa nuova realtà sarà possibile quindi visitare questi tre siti archeologici, ciascuno con delle proprie specificità. A Predore abbiamo una villa di un senatore romano con un impianto termale, a Casazza invece i resti di un villaggio. All'ovra la necropoli, dopo gli scavi archeologici, è stata per il momento ricoperta perché si trova sotto il campo di calcio della parrocchia, quindi l'oratorio ha necessità di utilizzare questi spazi per le attività sociali e sportive, ma rimangono invece numerosi reperti che sono stati estratti nei lavori conclusi proprio fino al mese di giugno e che verranno restaurati e quindi lasciati poi all'interno della nostra comunità con una scelta lungimirante della soprintendenza archeologia di Milano. Per l'overe c'è un patrimonio importante che è già stato in parte già valorizzato negli anni scorsi, ma c'è comunque da lavorare? Esattamente, perché la necropoli romana in diverse occasioni ha restituito parecchi reperti, già dall'Ottocento furono trovati reperti nelle tombe in località a Val Vendra, successivamente a due crolli del muro che ospita oggi l'oratorio uscirono altri reperti archeologici e numerose tombe. Il ritrovamento però più importante è quello del 908, quando in occasione della costruzione dell'ospedale vengono alla luce molti reperti che oggi sono custoditi presso il museo archeologico di Milano e vanno sotto il nome di tesoro di l'overe. Quindi una lunga storia di ritrovamenti archeologici che va a concludersi con l'ultimo scavo che praticamente ha perimetrato tutta la necropoli rimanente e ha potuto scavare 140 tombe. Bigoni, e il ruolo della comunità montana in progetti come questo? Allora il ruolo della comunità montana è un ruolo di coordinamento, è una cosiddetta azione di sistema, cioè quello di inserire all'interno di un ambito molto più ampio delle singole azioni che prese da sole potrebbero avere un'efficacia minore. Quindi il ruolo della comunità montana è quello di coordinare e comunque quello di portare ad un livello superiore rispetto a quello delle singole entità territoriali l'efficacia di questo progetto. Progetto importantissimo, progetto importante sotto un profilo culturale ma oserei dire un progetto importante che è sotto il profilo dell'unione tra tutti i territori, territori Alto Sebino, Basso Sebino e Valcavallina che non casualmente sono presenti in questa operazione davvero molto importante. Presidente, questa è un'altra occasione di valorizzazione dell'immenso patrimonio che c'è l'Overe ma anche qui a Latadini. Beh certamente è una ulteriore tappa di quello che in questi anni si sta portando avanti. Latadini per la verità di tappe ne ha compiute moltissime perché ormai si avvicina ai suoi due secoli di vita. Però anche in questi anni che sono anni notoriamente difficili per quanto riguarda soprattutto gli aspetti economici, la capacità di sostenere delle iniziative siamo riusciti a portare avanti degli interventi particolari cioè che vanno al di là delle normali attività che noi facciamo come le scuole di musica e di disegno, come ovviamente l'apertura del museo nelle attività didattiche e le mostre degli interventi particolari con degli investimenti molto importanti. Uno l'abbiamo concluso è stata la completa completo restauro della biblioteca storica dal conte Tadini e adesso stiamo portando a compimento questo secondo passaggio che si inserisce in questo discorso di rete molto interessante sui percorsi archeologici dei cosiddetti due laghi e quindi anche della comunità montana dei due laghi del lago di Seo e della vanca vallina del lago d'Endine. È un'iniziativa per noi particolarmente importante perché non solo ci permette di riqualificare degli ambienti cosa che andremo a fare all'interno di questo progetto e avremo un intervento di ristrutturazione di restauro di circa 200 metri quadri di parte museale ma ci permette proprio di cominciare a pensare anche quello che attiene all'archeologia come un elemento di testimonianza del territorio e quindi accentuare ancora di più questo ruolo di museo del territorio che l'Accademia di Tadini ricopre da moltissimo tempo. Ecco lo ricordiamo qui in Tadini ci sono reperti antichi. Sì c'è un settore cosiddetto gabinetto archeologico dedicato proprio a dei fondi di archeologia racconti in larga misura dal fondatore, dal conte Tadini durante i suoi viaggi in Italia e poi a questi si sono giunti altri reperti ritrovati qui sul territorio o recuperati attraverso anche delle donazioni private. Le donazioni private sono un fatto essenziale per il nostro museo perché è quello che ci permette di continuare a vivere e andare avanti nel tempo così come la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea che cerchiamo sempre di rinforzare. Con questa iniziativa si rifanno gli allestimenti, gli espositori, si rimette in ordine tutta l'illuminazione, cioè si crea un ambiente che possa esporre non solamente quello che già in Tadini c'era ma agganciando al fondo che già esiste in Tadini i ritrovamenti che sono stati fatti principalmente qui a Luvere. Poi in prospettiva vedremo se riusciremo a portare avanti il progetto anche del nuovo museo archeologico però in questo momento il passaggio è questo e quindi ci sarà tutto questo spazio dedicato a fare testimonianza, a salvaguardare, a raccogliere e mostrare quello che è stato ritrovato non solamente nell'ultimo scavo ma anche negli scavi precedenti. Un'ultima domanda sulle iniziative, l'estate meteorologicamente sembra ormai essersi conclusa ma è stata una stagione ricca di eventi. Sì è stata una stagione particolarmente positiva, il clima ci ha assistito veramente in questo, abbiamo avuto moltissimi visitatori, la gran parte dei visitatori dell'Accademia Tadini sono stranieri perché il museo viene scoperto soprattutto durante i soggiorni estivi, il flusso è stato molto buono, diverse migliaia di persone sono venute e questo ci ha fatto molto piacere e si è inserito un po' in quelli che sono stati tutti gli eventi organizzati sia a Rovere che sul Lago di Eseo. Abbiamo avuto un ottimo rapporto anche con la navigazione dei laghi perché giovedì ha messo in proposta il battello dell'arte e quindi questo circuito, questa gita su un battello con la proda a Rovere per visitare la Basilica di Santa Maria e poi visitare il nostro museo. Quindi sono state delle nuove iniziative anche molto importanti, molto curiose e speriamo che nel tempo possano continuare e si possa andare avanti a promuovere, speriamo con successo, tutto quanto si sta facendo. Ma ricordiamo innanzitutto cosa c'è a Casazza. A Casazza è stato rinvenuto un villaggio, un villaggio rurale d'epoca romana che curiosamente si trova nelle fondazioni del supermercato, questa è la caratteristica più particolare diciamo di questo sito. Avete in programma una serata? Abbiamo in programma l'inaugurazione del progetto di musealizzazione che segue un lungo iter di valorizzazione, sarà il 18 settembre alle 18 con un'apertura e una presentazione del progetto per poi aprirsi alla cerimonia di inaugurazione alle 20.30.